Una volta pensai a quando noi usiamo gli emoti e vogliamo comunicare una sensazione io ultimamente uso molto i cuori perché vorrei comunicare un'esigenza di amare molte volte nei messaggi noi usiamo le montagne, usiamo il muscolo però rappresentano uno stato d'animo che non è la realtà ora io molte volte mettevo la montagna e ora andrò in Islanda il tempo qui è veramente molto freddo e vivo in Sicilia quindi là ai piedi di questo vulcano, cugino dell'Etna sicuramente quell'emotion che a volte ho utilizzato in determinati momenti della mia vita ora diventa realtà, emozionato la mia vita è la mia vita la mia vita è la mia vita la mia vita è la mia vita è la mia vita la mia vita è 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 la mia vita Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.